professor pacioni proprietà benefiche diciamo dei tartufi erano già note ma qual è la scoperta scientifica erano note come mito come tradizione del passato come ipotetici effetti benefici però la scienza aveva sempre più diciamo negato questi effetti noi avevamo dimostrato alcuni anni fa che ci sono degli animali che vivono esclusivamente mangiando tartufo addirittura si riproducono nel tartufo e avevamo trovato anche le sostanze che attirano questi animali cinque anni fa abbiamo prodotto la decifrazione del genoma di tuber melanosporum e abbiamo visto che c'erano delle vie interessanti che ci hanno portato a questa scoperta veramente io credo clamorosa che va confermata comunque abbiamo dimostrato che i tartufi contengono delle sostanze ad azione neurale o psicotropa come vogliamo dire cioè è vero quello che dicevano gli antichi botanici o gastronomi il tartufo fa bene perché dà un senso di piacere per capirci la stessa sostanza che abbiamo trovato noi è quella che lega la madre il figlio alla madre durante la lattazione e quindi una molecola veramente straordinaria si chiama molecola del piacere molecola dell'estasi e nel passato i tartufi si mangiavano come le patate le patate fino al 600 non erano consumate dall'uomo e quindi i ricchi consumavano i tartufi come patate 200 grammi di tartufi fanno sentire gli effetti